Benvenuti al Casino Perla di Nova Gorica, Isobdex 4, si sta svolgendo il Day 2. Day 2 Vedremo sicuramente scoppiare la bolla, dato che si giocherà fino al 23esimo livello, livelli che sono oggi da 50 minuti. Benvenuti al Casino Perla di Nova 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 L'appuntamento è per domani alle 14, dove i migliori si sfideranno per conquistare la vetta della classifica e ricevere così il tanto ambito titolo di Player of the Year e volare a Las Vegas con l'Italian Poker Team. Vi ricordiamo che sarà possibile seguire le gesto dei nostri giocatori e il Final Table TV su www.pokeralfactor.org Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.